Mi dicono che c'è una telefonata, è così? Sì, buonasera. Buonasera, sono Alfredo Luigi Coni. Sì, immancabile, immancabile. E' segretario dell'Associazione Etica e Politica. Buonasera a tutti. Allora, sono felice per quanto riguarda la scelta dell'avvocato Gino Montanari. Sono stato uno dei fautori che ha riversato tutte le sue energie verso di lui, la sua lista. Sono felice per due motivi, anzi felicissimo. Primo perché lo conosco da diversi anni e conosco la qualità della persona. E secondo perché è libero. Noi di Etica e Politica chiedemmo nelle sedi competenti del Pdl che il prossimo coordinatore provinciale fosse uno senza incarichi, che si dedicasse totalmente alla provincia e a Taranto. E di questo sono super felice. Poi per quanto riguarda Taranto, beh, questa è una città ormai isolata da tutto il resto del paese, senza collegamenti ferroviari, senza aerei, visto che io sono uno di quelli che fa tanta battaglia per mettere i voli, i passeggeri di lì. Una sanità che viene costantemente penalizzata. Noi siamo veramente diventati una scenerentola. Per cortesia, avvocato Montanari, ci dobbiamo concentrare al massimo. Ok. Con la coalizione Forza e Coraggio. Ok, grazie, grazie. Bene così.